Nella splendida e caratteristica località turistica di Molla di Bari, a pochi passi dal centro e dal mare, proponiamo in vendita un ampio e rifinito appartamento di quattro vani, situato in un elegante palazzo dotato di ascensore. Entrando nell'appartamento sarete accolti da un ampio ingresso che conduce immediatamente al luminoso salone, impreziosito da una grande finestra che regala luce naturale e una piacevole sensazione di spazio. A destra troviamo una spaziosa cucina abitabile con balconcino da cui potrete godere di una splendida vista mare. A sinistra si sviluppa la zona notte con la prima camera da letto, anch'essa dotata di un balconcino privato, seguita da una seconda camera da letto con finestra. Completa la soluzione un comodo bagno e un pratico ripostiglio. Il palazzo sarà presto oggetto di una ristrutturazione totale e già deliberati che aggiungerà ulteriore valore all'immobile. Questa soluzione è ideale sia come investimento per la creazione di una struttura ricettiva grazie alla sua posizione strategica sia come abitazione principale per chi desidera vivere in un ambiente confortevole e a pochi passi dal mare. Un'opportunità imperdibile per chi cerca una casa pronta da vivere o da mettere a reddito in una delle località più affascinanti della costa barese. Per informazioni e visite non esitate a contattarci. Ciao alla prossima!